Le minacce sono le più diverse, sono minacce fisiche, abbiamo diversi giornalisti morti all'inizio dell'anno, anzi è una tragedia da questo punto di vista, i numeri aumentano sempre di più, ma a parte questi casi di cui prendiamo nota ma poi appunto li consideriamo nell'evoluzione della storia dei singoli paesi, abbiamo una minaccia più generale che ha a che fare con i rapporti proprio tra sistema politico, sistema di media e giornalismo. Il giornalismo è per qualche verso sotto attacco perché nel momento in cui la politica ritiene di poter fare a meno dei corpi intermedi, evidentemente ridisegna i rapporti con i cittadini, ridisegna i rapporti con gli altri soggetti, necessariamente ridisegna anche il rapporto con i giornalisti. In questo processo di ridefinizione, in questo momento il giornalismo è la parte che è più debole rispetto alla politica, quindi da questo punto di vista le minacce sono reali. Ho letto recentemente un'inchiesta molto interessante del Pew Internet Center che appunto riportava alcuni dati sulla possibilità di mobilitare i cittadini rispetto ad alcune tematiche. Tra queste tematiche in Italia, che era un paese coinvolto nella ricerca, tra queste tematiche vi era per l'appunto la libertà di espressione. Io credo che il fatto che sia stato segnalato questo tema dimostra che c'è una sensibilità rispetto al problema e c'è anche l'intenzione da parte dei soggetti di essere vigili ed eventualmente di mobilitarsi. Quindi da questo punto di vista, e penso che poi dipenda anche soprattutto dal clima, un po' di attacco non solo nei confronti dei giornalisti ma anche nei confronti dei cittadini che si vive in rete, l'ostilità, l'hate speech e così via, creano un clima di minaccia, un clima minaccioso nei confronti di tutti. Però penso che sia importante che i cittadini siano consapevoli e che indichino appunto questa libertà di parole e di espressione come uno dei temi rispetto ai quali bisogna mobilitarsi, rispetto ai quali sarebbero disponibili a mobilitarsi. Io penso che ciò che noi possiamo fare come studiosi è offrire elementi di conoscenza sui fenomeni e penso che da questo punto di vista ci siano, in Italia forse un po' meno, in altri paesi sono più sviluppate ricerche empiriche appunto sul giornalismo, sulla formazione dei giornalisti, sul rapporto dei giornalisti appunto con le nuove tecnologie social e così via. Detto ciò però penso che appunto tornare e continuare a sottolineare alcune tematiche da parte degli studiosi sia già di per sé un importante contributo alla centralità di un tema che altrimenti diverrebbe semplicemente un tema quasi di categoria, mentre invece assolutamente non lo è. Tutti siamo consapevoli che la libertà di stampa e il fatto che ci sia un sistema mediale vivace, anche conflittuale rispetto al sistema politico, è una garanzia per tutti quanti noi e per la democrazia. Quindi da questo punto di vista continuare a parlarne, continuare anche a studiare i meccanismi di formazione dell'agenda pubblica, sottolineando le difficoltà che ci sono nei rapporti tra sistema politico e sistema di media è importante perché resta a destra l'attenzione.